Voglio farvi conoscere le persone con le quali intendo amministrare Taranto, i componenti di quella che sarà la futura giunta, ma lo faccio per una questione di trasparenza. Il cittadino deve conoscere nomi e cognomi delle persone, conoscere i loro volti, i loro progetti, le loro idee. Se poi ci sarà convergenza tra i nostri progetti e la visione che l'elettore ha, bene, l'elettore potrà votarmi e votare le liste a mio supporto. Viceversa, ci sono tanti simboli, tanti altri candidati altrettanto validi e il cittadino sceglierà liberamente. E' questo il senso della democrazia, ma è giusto che si conoscano le persone. Siamo con l'architetto Luca Lopatriello che avrà la delega assessorile, in una sola parola, alle opere pubbliche, ma andando nello specifico dei settori, delle varie deleghe, lavori pubblici, urbanistica, edilizia, patrimonio, risanamento della città vecchia. Abbiamo però, abbiamo tutti, al di là di magari anche visioni leggermente diverse, abbiamo delle, ognuno di noi può avere una visione che guardi ad A anziché a B o più ad A anziché a B, però c'è un minimo comune denominatore che è la chiusura dell'ex silva e progettare una città diversa senza quel mostro. Quel mostro che occupa un'area, un'estensione che è due volte e mezzo taranto. Quindi abbiamo un infinito universo su cui, con cui divertirci per progettare un'altra taranto. E allora Luca, una taranto senza ilva che spezzi questa schiavitù e pensi e punti ad altro, finalmente libera. Sì Luigi, hai detto bene. Volevo essere chiaro con i tarantini. Non è un'opzione l'ilva, non è un'opzione. Ci stanno raccontando che ci sono due opzioni, ilva o a... No, non è un'opzione perché l'ilva è destinata a quello che sappiamo. Anche perché non è destinata a spegnersi, a morire, è finanziariamente e strutturalmente. Purtroppo dobbiamo dire non per motivi legati alla salute, ai morti, ai lutti, ma sarà per motivi economici perché non si spiega diversamente. Sta collassando finanziariamente. C'è un report preciso che è stato dato a Draghi che disegna un quadro catastrofico dal punto di vista finanziario. Prima ancora dei drammi enormi ambientali. Non è un però. Sommo a quello che hai detto che bisogna parlare direttamente ai tarantini. Basta a farci raccontare le storie. Perché questo? Perché cosa vogliamo fare quando questa realtà che è una realtà a breve accadrà? Ci facciamo trovare impreparati? Non abbiamo alternative? Non abbiamo progetti? Non sappiamo cosa fare? Dobbiamo adesso, ma già siamo in ritardo, ma dovremmo già pensare a una Taranto senza ilva. Che per me è una figata. Per me è una figata. Perché voglio che quando la gente venga a Taranto non dica che è bella Taranto guardando il mare. Deve dire che è bella Taranto magari trovandoci in via Dante, no? Che ne so? Ha i tamburi. Deve dire che è bella Taranto, della città di Taranto, perché è chiaro il mare è a 200 metri da qui, il mare è bello, ma quello non abbiamo fatto certo noi. Dobbiamo lasciare ai tarantini, dobbiamo pianificare una Taranto che sia bella. Io ci tengo perché se no gli architetti che stanno a fare? Voglio che sia bella come l'ho vista io bella a 15 anni, a 16 anni che ho iniziato a conoscerla. Era anche un po' paurosa Taranto perché comunque c'era anche da aver paura all'epoca, però era bella. Ecco, noi dobbiamo guardare Taranto con gli occhi con la quale la guardavamo a quell'età. Grande, luminosa, solare. La città, ripeto, perché il mare è lì da tanto, ma la città a pianificarla, a costruirla, a renderla bella e portarla al futuro dipende da noi, gli uomini, noi tarantini. Una necessità, dicevo, di togliere questo, di eliminare questo stato di schiavitù. Bisogna essere chiari con i cittadini. D'altronde tante città, tutte le città italiane, non tante, tutte le città italiane, che non hanno quel mostro, come vivono. Vivono di altro, penso. Io voglio approfittare per dirvi quello che ho letto, che sento. Si vuole quasi crocifiggere la comunità tarantina a questa ilva, a questa acciaieria. Perché? Perché adesso Taranto dà purtroppo esempio di un'economia, diciamo di decisioni sbagliate, industriali, adesso deve essere esempio di una regione. Ma l'esempio non deve essere sempre legato all'ilva. Noi di esempi, come dicevi tu prima, di progetti, ne possiamo fare altri. Dobbiamo staccarci a questa idea che adesso Taranto deve diventare polo, non lo so, polo scientifico, polo, sto sentendo degli hub per capire, di far qualcosa tipo le nuove fonti energia legate all'idrogeno. Rischiamo con questi, io li chiamo cartelloni pubblicitari, non lo so, con questi progetti roboanti, di perdere di nuovo il contatto col terreno. Quello che è successo con l'ilva, perché anche l'ilva è stata accolta negli anni in cui si è insediata a Taranto come un miracolo. Allora, non ci sono miracoli. Io nella mia vita ho fatto tutto passo dopo passo. Ci sono le alternative alle energie. Perché non utilizziamo quelle che sono già le alternative? Perché non siamo per un mondo solo? C'è già, anzi, ho dei contatti con Milano, con professionisti che stanno sviluppando queste tecnologie, le stanno spingendo a livelli che Taranto, dei quali livelli Taranto potrebbe approfittare per essere veramente un esempio. Però non dobbiamo andarci a impelagare in progetti, in sperimentazioni, non mi sembra il caso. Basta fare di Taranto quello che Taranto non vuole essere. Taranto vuole essere una città normale. Noi vogliamo una città normale all'altezza delle altre e questo lo dobbiamo dire. Ma non lo sarà, perché la bellezza di Taranto, la sua urbanistica, la sua forma, la rende unica. Però, per lo meno, Luigi, portiamola a essere una città normale.